Doccia fredda questo pomeriggio per quasi 100 dipendenti della Ponte Lambro Industria. Nel pomeriggio di oggi, 5 aprile, la ditta di Ponte Lambro ha comunicato la decisione di dichiarare fallimento e ha portato i libri in tribunale. I sindacati a fronte di questa scelta chiederanno il prima possibile un incontro con il curatore fallimentare. Alla riunione con il prefetto di Como, dichiarano le organizzazioni sindacali, l'amministratore unico Stefano De Marinis aveva paventato due soluzioni, il concordato preventivo o il fallimento. Si è scelta la seconda strada mettendo a rischio la possibilità di ottenere il finanziamento di 2 milioni di euro, ora bloccato dal Ministero. Appena verrà nominato il curatore fallimentare, fisseremo immediatamente un incontro, concludono i sindacati, e chiederemo come prima cosa il pagamento degli arretrati e della tredicesima ai lavoratori.